È una class action il passaggio successivo del popolo antigori. Il seme è già stato gettato e la rete acqua pubblica sta operando in maniera capillare per coinvolgere la classe politica a tutti i livelli. A far traboccare il vaso, la classica goccia di troppo. I momenti di tensione di ieri, davanti agli uffici della sede Gori a Mercato San Severino, con una folla di utenti che chiedeva delucidazioni rispetto all'invio di pagamenti con cifre oscillanti tra gli 800 e 1000 euro. La rabbia era e resta altissima. L'utenza è inviperita per la gestione del servizio idrico. I cittadini prendono posizione. La nuova campagna antiprivatizzazione dell'acqua, con l'intenzione di difendere il bene pubblico più importante, è già partita. Più volte i comitati e associazioni hanno inscenato forme di protesta, cercando poi attraverso le vie legali, di ottenere soddisfazione. Resta emblematica la battaglia condotta dal comune di Roccapiemonte, la sua strenua opposizione antigori. La vicenda ha raggiunto il paradosso anche in relazione all'esito del referendum del 2011. E si continua, per fortuna, ancora a lottare. Rete civiche e comitato acqua pubblica a nocere inferiore, per esempio, sono a disposizione per fornire informazioni ai cittadini. Ogni mercoledì, alle 17, uno sportello aperto in via Fucilari. E poi ci sono alcuni legali che hanno fornito e continuano ad offrire la loro professionalità in via del tutto gratuita, per aiutare quanti sono in difficoltà.